Il ruolo della nostra società di Infratelli Italia è quello di supportare il Ministero dello Sviluppo Economico e tutti gli organi governativi nella realizzazione dei piani di intervento pubblici finanziati con fondi nazionali e con fondi regionali. La società ha già avviato i primi bandi di gara per le future reti che saranno date in concessione per i prossimi 20 anni in alcune regioni del centro nord e a breve avvierà anche per le altre regioni i futuri bandi. I servizi che noi offriamo sono servizi della pubblica amministrazione, quindi la gestione dei bandi, assicurare la corretta progettazione degli interventi pubblici, verificare e collaudare tutti gli interventi finanziati con interventi diretti per garantire la piena funzionalità e la completa funzionalità delle opere realizzate che saranno date in concessione.